Una nuova sanità incentrata non solo sugli ospedali ma che rimette al centro le emergenze sociosanitarie fuori dagli ospedali come disagio giovanile, anziani, disabilità e nuove marginalità. E' questa l'idea cardine su cui poggerà la riforma sanitaria del Friuli Venezia Giulia. Una riforma le cui basi sono state illustrate a Pordenone dall'assessore regionale Riccardi durante un incontro con il sindaco Alessandro Ciriani. Noi siamo abituati a pensare che i problemi della salute si risolvano esclusivamente dentro un ospedale. Gli ospedali sono importanti, devono essere messi nelle condizioni di poter dare le risposte migliori ma c'è un prima e un dopo ospedale che secondo me nel corso di questi anni è stato un po' trascurato dal punto di vista organizzativo. E quindi questa è la ragione per la quale già da oggi pomeriggio visiterò tutti gli ambiti socioassistenziali per raccogliere le esperienze, le difficoltà, i problemi che in un ridisegno del sistema devono trovare spazio. Riccardi ha anche incontrato i primari di Pordenone e nei prossimi giorni chiamerà a raccolta gli enti le realtà socioassistenziali. Si inizia a costruire una riforma dal basso, non invece della regione, verso il territorio. Ascoltare i professionisti che operano all'interno delle strutture ospedaliere e soprattutto ascoltare gli ambiti significa mettere insieme in relazione due aspetti fondamentali. Uno, il bisogno di salute all'interno degli ospedali in cui Pordenone e ABB e gli altri ospedali devono essere complementari con delle specializzazioni, questo anche per evitare la fuga dei pazienti e possibilmente essere attrattivi. Due, mettere al centro tutti quei temi che non sono dell'ospedale e di cui l'ospedale non deve occuparsi. Parlo per esempio per Pordenone, abbiamo il tema dei minori che costa centinaia di migliaia di euro perché non abbiamo strutture per l'accoglienza dei minori, questo è profondamente grave. C'è il tema della tossicodipendenza, della diffusione delle droghe, rispetto alle quali non possiamo intervenire con strumenti di polizia e con gli arresti, ma dovevano sistemi di prevenzione e poi anche interventi terapeutici ma anche su questo siamo all'anno zero, penso al tema della disabilità, penso allo sviluppo preoccupantissimo dell'autismo non solamente su Pordenone rispetto al quale dobbiamo attrezzarci, penso al tema degli anziani rispetto al quale dobbiamo dare risposte più moderne per tenerli in caso, con strutture che non siano semplicemente delle case di riposo inteso in senso stretto o vecchio stampo. La nuova legge di riforma verrà sviluppata tra ottobre e novembre per poi essere portata al vaglio del Consiglio regionale.